no anche voi qua incredibile incredibile ciao a tutti io sono andrea e vi do il benvenuto a questa nuova puntata di micro mondi crociati anche se insomma di micro c'è poco e vi do il benvenuto in questa puntata che ho deciso di tornare a fare perché devo dirvelo sono preoccupato per un mood che si sta sviluppando e alcune situazioni che si stanno sviluppando che non mi fanno stare tranquillo voi lo sapete io non sono uno che è sensazionalistico che a cui piace godere di situazioni o creare situazioni di dramma solo per fare visualizzazioni anzi ormai non pubblico video da tanto però sentivo veramente la necessità di dover tornare a fare un video a parlare di certe cose che mi stanno preoccupando dell'ambiente parma e torno anche sul tema invece di parma game pass mi state scrivendo in tanti torneremo ovviamente torneremo quanto prima ci scusiamo per non aver continuato a fare i video in generale il motivo era uno non stava succedendo niente era anche difficile parlare noi non essendo obbligati a fare trasmissioni parliamo quando è il caso di parlare in questo caso e in questi periodi c'era veramente pochissimo da dire e dove sono vabbè ditemelo voi dove sono vediamo se qualcuno indovinerà andiamo al dunque andiamo al dunque perché ho letto tante cose che non mi sono piaciute e che mi stanno facendo preoccupare riguardo questo precampionato del parma e ho veramente il timore che si vada incontro a l'ennesimo ripetersi di una situazione che abbiamo già visto per quantomeno per due anni di fila ho visto l'amichevole contro le lecce e sì anch'io come in tanti ho visto un atteggiamento diverso di un parma più propositivo un parma occupa meglio gli spazi però ragazzi non prendiamoci in giro assolutamente non si può pensare di affrontare questo campionato che sarà difficile come tutti i campionati di b non solo per avversarie che sono obiettivamente più forti negli ultimi anni ma in generale non si può pensare di puntare alla promozione senza avere una punta affidabile di ruolo in tanti gli dicono sì ma inglese quest'anno vedrete che farà tanti gol ragazzi io voglio benissimo inglese ma non posso fidarmi solo di lui come punta centrale su cui affidare tutto il gioco del parma ragazzi inglese da solo non va bene e bisogna dirlo e bisogna farlo presente anche alla società non si può pensare di fare una squadra per salire con sicurezza se non abbiamo almeno una punta affidabile che ti possa disputare tutto il campionato da terminale offensivo l'anno scorso non abbiamo avuto abbiamo visto i risultati l'anno prima non l'abbiamo avuto abbiamo visto i risultati ragazzi non si può stare qui a contarsela noi non abbiamo una punta di ruolo e bisogna intervenire in tal senso se si vuole dire che il parma vuole puntare alla promozione poi potrà succedere comunque perché hai la fortuna che succeda di arrivare alla promozione va bene però scientificamente tu non hai le carte in regola per avere la promozione se non hai la punta di ruolo e questa cosa va detta ragazzi questa squadra ricordiamocelo che non è una squadra di fenomeni è inutile che si continui a dire ma siamo forti l'anno scorso siamo arrivati dodicesimi in serie b quest'anno torna a dire il campionato è ancora più forte arrivano squadre forti sia della lega pro che scendono dalla serie a quindi è inutile pensare di essere già forti così come rosa perché ragazzi se con questa osa nella serie b dell'anno scorso siamo arrivati dodicesimi quest'anno anche con un buon allenatore io la vedo difficile arrivare alla promozione diretta un'altra cosa che mi sta facendo preoccupare in prospettiva futura è l'andamento della campagna degli abbonamenti ovvero adesso sono stati pubblicati alcuni annunci che il parma avrebbe raggiunto i 5.000 abbonamenti che tra le migliori squadre italiane per numero di abbonati ragazzi il parma negli anni in cui andava male non è mai sceso sotto i 9.000 abbonati è arrivato a 8.900 durante la gestione Ghirardi nell'anno della retrocessione vado a memoria ma mai meno di 9.000 ricordiamocelo 8.900 vabbè 9.000 se oggi siamo a 5.000 festeggiamo perché siamo arrivati 5.000 abbonati siamo messi male davvero lo zoccolo duro vuol dire che si sta lentamente sgretolando e bisognerebbe fare qualcosa per andare a raccogliere nuovi tifosi e andare a richiamare quelli vecchi si potrebbe fare certamente con una campagna acquisti importante si potrebbe fare con una squadra che piace dal punto di vista del gioco e dal punto di vista soprattutto dei risultati perché alla fine sono quelli che è quello quello che conta però sicuramente merita una riflessione e far passare il raggiungimento del target dei 5.000 abbonati a poche settimane dall'inizio del campionato come un risultato buono non va bene cioè io non me la bevo che sta andando bene la campagna abbonamenti sta andando male perché la squadra dopo due anni di pandemia ha avuto un netto calo del seguito la squadra non entusiasma ci sono stati tanti obiettivi che non sono stati centrati la società non riesce ancora andare in sintonia con i tifosi e quindi bisognerà lavorare ancora tantissimo qualcosa è stato fatto abbiamo visto nel mese scorso l'iniziativa di portare le panchine del Tardini di farle firmare ai tifosi è stato molto bello abbiamo partecipato anche noi infatti in una di quelle panchine troverete la scritta Parma Game Pass firmata con i nostri nomi tutto molto bello però bisogna fare ancora qualcosa di più per ritornare quella squadra che è un'espressione della città cosa che adesso purtroppo non è altra cosa importantissima non pensiamo di avere in squadra Vasquez che ci risolve le questioni da sole l'abbiamo già vista l'anno scorso abbiamo visto una squadra che giocava per Vasquez e non Vasquez che giocava per la squadra questa cosa non deve più capitare io voglio un Vasquez che magari mi segni 10 gol in meno ma che me ne faccia fare altri 20 agli altri giocatori a me di Vasquez che raggiunga il record di reti segnate me ne frega assolutamente niente quindi assolutamente non mettiamoci le fette di prosciutto negli occhi pensando di avere un fenomeno di squadra in squadra e che vada bene così assolutamente non è così detto questo io ragazzi vi saluto vi saluta anche questo paesaggio fantastico e vi do appuntamento quanto prima con Parma Game Pass in studio e quando sarà necessario sul mio canale youtube con Micromondi Crociati ciao a tutti da Andrea io adesso vado perché se no fa buio e insomma in bosco ho paura ciao ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti